Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara, Penne. Le cure pagliative per le persone con autismo sono un diritto immediatamente esigibile. Dopo il Tribunale di Teramo, anche quello di Chieti accoglie integralmente il ricorso presentato. Angelica, la bimba di otto anni di Arielli, potrà così accedere alle attività riabilitative. Le liste di attesa e l'organizzazione territoriale dei servizi riabilitativi non sono adeguate alle necessità delle persone con autismo. Il giudice del lavoro del Tribunale di Chieti, Ilaria Prozzo, si legge in una nota di autismo, Bruzzo Ollus, ha accolto integralmente il ricorso dell'associazione con un'ordinanza che impone alla ASL di Lanciano Vasto Chieti l'immediata presa in carico della bimba, alla quale dovrà essere assicurata l'integrale copertura economica necessaria per l'intervento. L'ordinanza indica anche che le azioni previste dalle linee guida nazionali per l'autismo vanno assicurate attraverso la rete pubblica territoriale, le strutture convenzionate o una terapia domiciliare. Il Ministero dello Sviluppo Economico, le regioni Piemonte, Campania e Abruzzo e la provincia autonoma di Trento hanno siglato un protocollo d'intesa con FCA, l'ex Fiat, e Centro Ricerche Fiat. Il protocollo prevede un investimento complessivo in ricerca e sviluppo di oltre 150 milioni di euro, la maggior parte dei quali stanziati proprio da FCA per sostenere la competitività del settore automotive italiano. Quattro le linee di progetto sviluppate da FCA nei siti piemontesi di Orbassano e Torino, Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli e Trento. Gli stabilimenti produttivi coinvolti, tra cui la Sevella di Atessa, saranno impegnati nella produzione dei nuovi modelli di auto. E' arrivata in ospedale con fortissimi dolori, una ragazza di 13 anni, residente a Giulianova, che si è scoperto avere calcoli nella colicisti e nel coledoco, nonostante la giovane età. La ragazza è stata ricoverata in uno dei pochi ospedali italiani, in grado di intervenire su pazienti in età pediatrica per via endoscopica, sulle vie biliari e pancreatiche. Si tratta dell'unità operativa complessa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva diretta da Antonio Astolfi. Con un approccio multidisciplinare, la piccola è stata trattata ed è ora tornata a casa. La tredicenne è stata ricoverata nel reparto di pediatria del Mazzini, diretto da Mario Di Pietro, per una pancreatite acuta. Dopo le prime cure mediche, il quadro clinico e gli esami strumentali, una colangiorisonanza, hanno evidenziato che la causa di pancreatite acuta era dovuta a calcolosi del coledoco e della colicisti. Quindi la paziente è stata sottoposta all'intervento endoscopico di RCP, colangio pancreotografia endoscopica retrograda, per rimuovere i calcoli con le docomigrati della colicisti. Università d'Annunzio sconfitta su tutta la linea per quanto riguarda l'indennità mensile accessoria, circa 300 euro al mese, che dovrà essere corrisposta a tutti i dipendenti. L'Ateneo dovrà anche sborsare gli arretrati a partire da agosto 2014. Il primo agosto di quell'anno, infatti, il direttore generale Filippo Del Vecchio decise di sospenderla dopo sollecitazioni arrivate dal Ministero dell'Economia e della Finanza. Gli ispettori proprio del Ministero dell'Economia e della Finanza avevano sollevato rilievi sul pagamento delle indennità e Del Vecchio decise di tagliare la stessa e quindi non errogarla più. I dipendenti entrarono in fibrillazione e si arrivò dal giudice del lavoro. Oggi, appunto, la sentenza. Lavori di somma urgenza da ieri mattina a Chieti per riparare la rete idrica in vari tratti di strade che presentavano pericolo per la pubblica e privata incolumità. L'intervento è iniziato in via Nicola da Guardia Grele, nei pressi dell'incrocio con Miarnienze, dove per motivi di sicurezza è stato adottato un provvedimento temporaneo di divieto di transito veicolare. A Pescara apertura pomeridiana per il mercato di Via dei Bastioni. La struttura potrà aprire tre giorni a settimana dalle 16 alle 19. Questa è la novità che arriva in un momento di particolare importanza per l'economia pescarese. Il progetto è sperimentale e si affianca ad un'altra sperimentazione che vedrà interprete il mercato, quella cioè legata alla vendita di eccellenze di bosco e di alta quota, frutti, spezie, funghi, miele, zafferano, che consentiranno di avere a Pescara, città di mare, ciò che la biodiversità abruzzese produce altrove. Per questo è stato pubblicato un apposito bando nella sezione bandi e concorsi per la concessione di cinque stalli a piano terra del mercato di Via dei Bastioni per la vendita e le domande dovranno essere prodotte entro il 14 giugno secondo le modalità previste appunto dal bando stesso. La cronaca è giallo a Pescara per la morte di una giovane sui 30 anni trovata con la testa sotto pochi centimetri d'acqua in città. Il dramma si è consumato in Via Tavo, la vittima si trovava in un cantiere dismesso che le infiltrazioni idriche hanno trasformato in una sorta di palude. Il corpo non presenterebbe segnali di violenza ma sono ancora in corso accertamenti medico-legali. Il casello di Pescara Ovest dell'autostrada A14 resterà chiuso dalle 22 di martedì 30 maggio alle 6 del giorno dopo in entrata e dalle 22 del 31 maggio alle 6 del primo giugno in uscita. Il provvedimento serve per consentire ad Autostrade per l'Italia di eseguire i lavori di risanamento della pavimentazione. Lo comunica il comune di Pescara che insieme a tutti gli enti coinvolti ha ricevuto l'ordinanza dalla società. L'unica uscita consigliata per chi viaggia verso Bari è Pescara Nord, mentre l'entrata per chi viaggia nella stessa direzione è Pescara Sud. Entrata consigliata in direzione Ancona invece è quella di Pescara Nord. Siamo allo sport. Saranno Pescara e Luparenzi a sfidarsi nella finale dei play-off che assegnerà lo scudetto del calcio a 5, esattamente come è accaduto in Coppa Italia quando a vincere furono gli Adriatici. Gli uomini di Colini ieri sera alla pala Rigopiano hanno sconfitto per 5-2 la lollico Gianco Napoli aggiudicandosi gara 3 nella semifinale. Sfuma così il sogno di una finale tutta abruzzese, ma va detto che l'acqua e sapone si è resa solo all'ultimo secondo dei tempi supplementari nella trasferta contro la Luparenze, che gli uomini di Ricci hanno comunque pareggiato per 5-5. I padroni di casa hanno passato il turno solo grazie al miglior piazzamento nella regular season, essendo stati secondi proprio davanti ai ragazzi di Montesilvano. Gara 1 della finale tra Pescara e Luparenze, giovedì 1 giugno alle 20.30 a Pescara. Celebriamo Cristo Signore. Questo è il titolo dell'incontro concerto con il maestro Fabio Massimillo che si terrà questa sera presso la Chiesa dello Spirito Santo a Pescara a partire dalle ore 21. Per informazioni si può contattare il 348 28 42 971 oppure scrivere a corali-diocesipescara.it I più importanti cardiologi e cardiochirurghi italiani ed europei presenti oggi e domani a Pescara al secondo congresso nazionale di cardiologia dal tema Il cuore è un mare di onde difficile da cavalcare all'auditorium Petruzzi del Museo delle Genti d'Abruzzo di Via delle Caserme il simposio organizzato da Sinergo di Casa di Cura a Pierangeli di Pescara che ha richiamato l'attenzione del mondo scientifico su problemi di grande importanza per la salute pubblica in molti paesi del mondo. Infatti le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte. Ed è ciclo di incontri su economia e politica per analizzare le cause della crisi. Si tratta dell'iniziativa promossa dall'associazione Pescara.0 con On the Road Onlus che si occupa del sostegno e senza fissa dimora ed è punto di riferimento sul territorio a salvaguardia delle donne vittima di tratta degli esseri umani. Il ciclo di incontri si aprirà lunedì al Cinema Teatro Massimo con la proiezione, unica data in Abruzzo, del documento PIGS ovvero come imparai a preoccuparmi e a combattere l'austerity. Oggi è sabato 27 maggio e la direzione, la redazione, la regia e tutti i collaboratori di Radio Speranza augurano un buon anniversario di ordinazione sacerdotale a Don Stefano Lopus Fernandez che celebrerà la ricorrenza nella giornata di domani. Siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevede cielo sereno con temperature da 17 a 23 gradi e venti da deboli a moderati. Domani si prevede cielo sereno con temperature da 17 a 25 gradi sulla costa e da 17 a 23 gradi nelle zone interne venti da deboli a moderati. Il mare è previsto quasi calmo sia oggi che domani. Ed era l'ultima notizia per quest'edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie per essere stati con noi. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Grazie a tutti.